Mediamente a fare un tampone ci si mette 4 minuti, adesso non vorrei aprire una polemica anche su questo, inviterò Rigoli e vi farò vedere quanti minuti ci mette a fare un tampone, cioè non è che è un'operazione a cuore aperto, c'è qualche medico che mi ha scritto io come farò fare i tamponi perché ho già tanto da fare, scusate, a parte il fatto che c'è un accordo sul contratto nazionale, dopodiché vi ricordo che come sono remunerati poi uno si organizza. Così a mezzogiorno il governatore Zaia da Marghera commentava le prime proteste dei medici di base di fronte all'ordinanza di sabato, quella che ha reso obbligatoria la somministrazione di test rapidi sulla base di uno specifico accordo nazionale tra sindacati e ministero poi ratificata venerdì a livello regionale. Sinceramente non è che qua possiamo andare avanti con la pelle delicata, nessuno ha offeso i medici di base e voi ne siete testimoni, se dopo l'esame sta anche a dire che il contratto prevede l'obbligo di fare tamponi qualcuno mi venga a dire qui che il contratto non prevede l'obbligo, il contratto prevede l'obbligo e prevede anche un ristoro economico di 18 euro. Zaia si era spinto anche ad annunciare controlli. Ogni settimana siccome è tutto informatizzato vi dirò quanti sono i medici che hanno fatto zero tamponi, quanti ne hanno fatti tot, insomma per categorie in modo tale che poi ognuno fa le sue valutazioni, guardate cioè stiamo parlando di un servizio di sanità pubblica ed è un servizio pubblico. Di tono arrogante del governo regionale parla nel pomeriggio la FIMG di Treviso che comunica la volontà di non aderire all'ordinanza regionale, una questione di sicurezza degli ambulatori per la FIMG di Marca che spara ad alzo zero contro Venezia accusata di non aver rafforzato gli organici dei servizi di igiene e sanità pubblica, uno scontro non ininfluente, quello in atto che incide sullo screening della pandemia il cui picco è atteso fra poco più di due settimane. Verosimilmente che potremmo pensare a un picco intorno a metà 15-20 di novembre, speriamo sia così, stiamo andando avanti sia col modello previsionale ma anche ovviamente sotto l'aspetto clinico. Previsione che è anche una speranza nelle ore in cui è in corso un serato confronto tra regioni e governo con il premier Conte che ha annunciato alla Camera il coprifuoco in tarda serata senza specificare l'orario, lo stop ai centri commerciali nel weekend e la didattica a distanza al 100% nelle scuole superiori, 50% del carico sui mezzi pubblici ma in attesa di capire la linea dell'esecutivo, Zai ha fissa dei punti. In questo momento diciamo che non intravediamo assolutamente soluzioni con lockdown stile marzo, non ci sono i presupposti, da parte nostra siamo assolutamente pronti a dar corso ad eventuali restrizioni ma non sicuramente sul fronte delle attività produttive, non sicuramente sul fronte delle attività produttive.